Allora, buonasera a Francesco Moser, buonasera a Beppe Savonni, faccio una premessa, io facevo il tipo per Visentini così, giusto per farvi capire che sono neutrale, va bene? Ok? Come? Visentini è bresciano, vabbè anche lui ne aveva da raccontare, anche lui in fatto di aneddoti ce ne sarebbe da raccontare. Detto questo, 1977, lo ricordava con grande e estrema precisione come suo consueto Brambilla, trofeo Pantalica in Sicilia, è il primo scontro tra Francesco Moser e Beppe Savonni. Come finisce? Finisce che alla fine sono in 23 a giocarsi la vittoria, c'è Paolini davanti in maglia scicca a tirare il 19enne Savonni, sulla sinistra c'è Moser che ha davanti però una motocicletta della postrada. Improvvisamente questo motociclista frena, non so se non gli entra la marcia, rallenta e Moser va a sbattere contro il motociclista finendo a terra. Dall'altra parte, Savonni che aveva scelto la corsia evidentemente un po' più libera, trainato appunto da Paolini, vince braccia alzate. A fine gara Moser dopo la corsa dice avrei vinto io. Il vostro fu amore a prima vista, vero? E' proprio così, si. Ma d'altra parte Francesco ha avuto questo ostacolo, così dice lui, così dice lui. Vabbè io ho vinto la mia prima corsa da professionista, in effetti è vero c'era una moto lì davanti, non so cosa è successo, si è impiantata, ha rallentato e comunque un certo danneggiamento c'è stato. Però io ero davanti, non ho potuto vedere bene tutto quello che è successo. E' vero che ingaggiasti Tom Ponzi perché avevi il sospetto che lui avesse comprato il motociclista? No, è che purtroppo nelle gare succedono anche queste cose, del resto lui ha perso un campionato italiano a Imola perché la macchina è entrata in gruppo. Il fatto di macchine sul percorso c'è chi ha perso anche molto di più a dire la verità, sono cose che succedono. Ma è vero che alla fine a San Cristobal, in mondiali del 77, Saroni aiuta Moser che in quel caso si laurea, con pieno merito va detto, campione del mondo. Ancora oggi una di quelle cinque strisce che rappresentano i colori della maglia mondiale, tutto sommato va alla squadra e quindi anche a Saroni? Certamente, in mondiali si corre con la nazionale. E' ripartito bene, certamente lui mi fece, no poi però ha fatto subito un passo indietro. Si corre con la nazionale e tutti quelli che corrono la nazionale contribuiscono al risultato, del resto anche quando ha vinto lui qualcosa abbiamo fatto noi, ma questo fa parte del gioco. A San Cristobal la squadra italiana aveva avuto un grande rendimento, c'erano stati anche un po' di incidenti, corridori che sono caduti prima, dopo la corso, e alla fine eravamo rimasti veramente pochi e dietro a me, a Eturao, è arrivato Bitossi e Saroni che erano nel gruppetto degli inseguitori con Zotte, Melch e l'altro, non so chi era, un francese forse. E' stata una corsa un po' movimentata anche perché poi il tempo continuava a piovere, smettere, ricominciava, era stato, poi eravamo ai tropici lì in Venezuela C'era anche il fatto del fuso orario, c'erano insomma tante problematiche che... E mezz'ora che parla non mi ha detto sì in fondo qualcosa a Saroni in quel caso devo, eh? No, l'ho detto, l'ho detto con la squadra, perché abbiamo fatto... Ah, scusi, mi scusi, hai tirato fuori il tempo, il continente, il fuso orario, la mamma che non gli telefonava, cioè non lo so io? No, eravamo in finale praticamente nei primi in tre e io ero davanti, dietro c'erano Bitossi e Beppe che hanno controllato diciamo gli inseguitori e chiaramente hanno fatto il mio gioco, questo è fuori di dubbio. Vabbè, ma è vero che, attenzione perché poi la famosa fucilata di cui ricordava la straordinaria portata prima anche il nostro amico Brambilla in quel caso fu Moser ad aiutarti, oppure anche lì c'era un altro continente, il fuso orario, la mamma, l'auto, i francesi, i belgi? No, no, il merito è andato a me come vincitore, ma ovviamente a tutti i compagni di squadra. Dai, a tutti i compagni di squadra, eh! Aspetta, non essere premuroso, non essere premuroso a tutti i compagni di squadra, tra i compagni di squadra nel finale ha fatto un bel lavoro anche Francesco. Ma, attenzione, perché queste domande che tu fai, in realtà, come dire, non sono domande così campate in aria, perché è solo nel ciclismo in cui tutta la squadra lavora e un corridore solo vince e veste la maglia di campione solo lui, gli altri no. Una squadra di calcio che vince i mondiali vengono premiati tutti, sono tutti i campioni mondiali. Nel ciclismo c'è questa anomalia e, allora, detto questo, pensate un po' come potevamo andare d'accordo in nazionale quando sapevi che poi alla fine vinceva uno e magari vinceva il tuo avversario, che magari in quel caso mio era Moser, e ci correvi contro tutto l'anno. Solo Alfredo Martini riusciva, no, ad accomodare tutte le cose. Quindi, ecco, per ritornare a ricordare Alfredo, aveva delle grandi capacità, perché nel ciclismo è così. Tu corri da avversario tutto l'anno, ti trovi nella corsa mondiale e bisogna cercare di andare d'accordo, se no non li vinci più i campionati del mondo. 1978, Tireno Adriatica. Nella cronometro Saroni batte Moser di un secondo. Moser dice alla fine, lui ha vinto perché aveva l'auto della TV a tirarlo. Saroni risponde, l'auto della TV seguiva me perché sapeva che avrei vinto. Cioè, ma guardate che, secondo me, il più grande commediografo non potrebbe scrivere una trama così. Questo è tutto vero. Queste cose, io non so, ma ci pensavate la notte prima alle battute che dovevate fare poi il giorno dopo? No, è che sono successe cose che ci portavano a dire certe cose, poi era anche un po' tutta la questione esasperata, perché la stampa, la televisione ci metteva del suo e noi forse anche abbocavamo tante volte che forse se avessimo fatto un'altra tattica per noi sarebbe stato meglio. Ma quante corse non hai vinto per colpa sua? Beh, possibile tante, ma sai, in realtà non pensavi a questo. Allora, per ciò che riguarda me, questo antagonismo mi ha fatto crescere, mi ha dato entusiasmo e mi ha fatto vincere anche tanto, perché il fatto di prepararmi per poter cercare di battere il mio avversario mi ha fatto crescere molto. Poi è vero, è vero, nell'arco della nostra storia tante volte ci siamo corsi contro e magari abbiamo anche perso. Però tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto veramente. Cioè quello che abbiamo detto, queste rivalità, queste battute, almeno io le dicevo convinto e ci credevo. Poi è chiaro che il giornalismo allora, i giornali e la televisione, avere due personaggi così sguazzavano. Certo che sguazzavano. Posso dire, c'erano oggi due personaggi così, non solo per la rivalità, ma anche per la classe straordinaria, perché qui abbiamo una fette importante della storia del ciclismo, eh, signori. Ma poi voglio dire, la rivalità, se è vera, e la gente di allora lo sa, perché erano grandi appassionati intenditori, non era creata, è vera, perché ogni corsa si lottava assieme, si perdeva, si vinceva, ma si lottava sempre assieme. Quindi erano cose vere, non erano... Cioè si stavano sui maroni per davvero, in pratica, cioè, detto in parole molto chiare. No, ma com'è sta storia? Cioè, alla fine, entrambi, come si dice, convolano a giuste nozze, nello stesso anno, nel 1980, ovviamente con due signore diverse, giustamente. Cioè, ma anche lì facciate a chi si sposava prima, non so, si è sposato dopo di me, così impara? Beh, no, questo non c'entra niente con lo sport. È casuale? È casuale. Sicuro? Era una situazione così che si è creata e che non poteva più tornare indietro, diciamo, e è continuata finché siamo stati capaci di sostenere questo ruolo, perché la rivalità diventa interessante se i rivali sono all'altezza della situazione, perché se tu metti due che non c'entrano niente, la rivalità finisce. Certo, certo. Allora, no, però ho scoperto che tu ti sei sempre fidato tantissimo di Saroni, infatti, 1978, giro di Lombardia, Mosè a fine corsa dice, Saroni è venuto a dirmi che stava male, io naturalmente non gli ho creduto, perché di quello è meglio non fidarsi. Te la ricordi sta cosa? No, come faccio a ricordarmi di queste cose, no, nel 1978 io avevo in ballo, era l'ultima gara praticamente, giro di Lombardia, e eravamo arrivati, io e Ino, all'ultima gara, Ino era davanti a me di qualche punto nel Super Prestige, e c'era il giro di Lombardia, se io arrivavo davanti a Ino, nei primi tre avrei totalizzato i punti per surpassarlo nella classifica, e ho vinto il giro di Lombardia, sono state due vittorie in una, perché era una classifica che gli italiani non avevano mai vinto, e anche il giro di Lombardia era una corsa importante, ci siamo giocata in volata lì sul Lungolago di Como, e è stata una delle più belle vittorie che ho fatto, certamente. Allora, una volta gli hai detto, aspetto che sia tu a tirare perché sei tu il campione del mondo, io non tiro, è vero? Ma che, da dove le tiri fuori queste, queste frasi celebri? No, vabbè, ma, cioè, non è che ci voglia molto, perché già avete vent'anni di carriera nel quale ve le siete cantate soavi, beh, adesso non lo so, io non mi ricordo. Devo dire che colui che ha ispirato tutto questo è un vecchio amico di Saronni, e mi dicono più di Moser, mi dicono più di Moser, che è l'amico Beppe Conti, che molti di voi conoscono, perché è uno dei più grandi, straordinari giornalisti di ciclismo, autore di una ventina di libri, e in questi giorni commentatore per la RAI del Tour de France, e lui ha scritto appunto un libro dedicato a questa epopea, a questa grande rivalità che ha nobilitato, questa è la verità, il ciclismo mondiale tra Saronni e Moser. Poi non è vero che si sono sempre, come dire, tra virgolette ovviamente odiati, tant'è che ad un certo punto parteciparono insieme ad una grandissima corsa che c'era negli anni 70-80, che era il trofeo Baracchi, e come andò quella volta lì? Come mai alla fine mi hanno messo insieme? Questo non lo so, sinceramente non lo so ancora oggi. Era Baracchi? Era Baracchi che decideva? Baracchi si divertiva a fare delle coppie strane, e ha proposto, beh, l'aveva fatto anche Mers e De Vlami che aveva fatto una volta, mi pare, poi aveva fatto delle coppie a quei tempi, sì, coppie, no, ma anche Till e Altiger che aveva fatto, insomma aveva sempre messo, perché il trofeo Baracchi era uno scontro a cronometro e bisognava che ci fossero un paio, due, tre coppie che si contendevano la vittoria, però Baracchi poi si divertiva proprio a vedete, io ho fatto anche con Baroncheglio, ho fatto il Baracchi, è tutto dire, eh, era così, insomma, quella volta che ci abbiamo messo insieme, io e Knussen, sembrava che la corsa era già vinta prima, e invece abbiamo perso. Ma quella volta lì come andò? Chi dei due tirava l'altro? Perché lì è una lotta contro il tempo, per cui è anche una questione di ritmo, mi risulta che poi alla fine, come dire, uno dei due si sia lamentato perché dice, quando stava davanti lui è piccolino e prendevo tutta l'aria in faccia. Ah, questa non mi risulta, questa è l'ultima che sento, anche questo hai detto, te Francesco, hai detto anche quello, non credo, no, beh, adesso a parte scherzi, a parte scherzi, intanto dobbiamo dire, cento chilometri in due non è mica uno scherzo, eh, soprattutto fatto con lui, in quel momento io che non ero certamente un cronomen alla sua altezza, per metà percorso, tre quarti di percorso, sinceramente sono stato, credo, all'altezza normale, nell'ultima parte ovviamente ho pagato e sono arrivato veramente stanco, però abbiamo vinto credo con due minuti, due minuti erotti o tre minuti sugli altri, a un certo punto, ad un certo punto Francesco continuava ad incitare e dire, dai, 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 a un certo punto dico, ma scomma Francesco, abbiamo già due minuti e mezzo con quanto vuoi vincere, però devo dire la verità che quella volta sono arrivato veramente stanco. Ad un certo punto il loro, la loro rivalità, divenne quasi un caso nazionale, un caso federale, tant'è che dopo una Sanremo, quella vinta da De Wolf, al termine della quale sostanzialmente Moser arrivò sul palco e disse, ho corso per far perdere Saronni, Saronni disse, quello là mi ha fatto perdere la Sanremo, e allora vennero entrambi convocati da quello che allora era il Presidente della Federazione, Omini, no? Grande vecchio del ciclismo italiano, vi tirò l'orecchia da entrambi? Come andò quella volta? Non so se siamo andati a caccia una volta assieme anche, che era stato mini organizzare la battuta di caccia, no, ma è che io non ero veloce, allora più delle volte cercavo di fare la corsa dura e qualche volta mi riusciva, qualche volta no, e allora ho detto, vabbè, sto rotto anch'io e basta. Che cosa vi aveva detto, Omini? Fate i bravi se potete. Ma guarda, ti devo dire, però nella nostra storia di queste specie di tregue, paci, ne abbiamo fatte più di una, attenzione, però sai, probabilmente il nostro carattere era quello lì, il nostro istinto era quello, io sicuramente ne ho combinate parecchio Francesco, però attenzione che lui non era mica da meno, anche lui le studiava bene di notte, anche lui, allora questa dichiarazione a fine di una tappa del Giro d'Italia, vediamo se la ricorderanno, Trento Barzio, Saronni dice ho visto tre volte Moser attaccato ai pantaloncini dei Gregari, Moser risponde, non vi ha detto che per tre volte lui si è attaccato ad una motocicletta, nessuno dei due vi ha mai detto che chi fa la spia non è figlio di Maria, eccetera, eccetera? ma erano provocazioni che succedevano, del resto il fatto che una volta c'era la prassi, l'abitudine che i capitani si attaccavano ai Gregari, se c'erano, perché non è che c'erano sempre, dopo siamo stati proprio io e Beppe a decidere, perché siccome era come i guardi e i ladri, perché a un certo punto la federazione aveva messo le motociclette per controllare, perché era vietato dal regolamento attaccarsi ai compagni di squadra, e allora abbiamo detto è inutile che stiamo qua a rubare una spinta, un tirone con i compagni di squadra, diciamo smettiamola, non lo facciamo più, è un patto diciamo, non solo noi ma tutto il gruppo e credo che da quel momento era molto meglio, insomma. Sul finire della carriera, cioè qua a smettere per primo fu Francesco, ovviamente per questioni in grafiche, ho l'impressione che poi, come dire, uso un termine forte e inappropriato, però si dice che con la vecchiaia arrivi la saggezza, cioè sul finire della carriera, cioè sul finire dell'incrocio delle vostre carriere, ho l'impressione che entrambi tendeste a dare l'onore delle armi all'avversario, è così? È perché eravate diventati maturi o perché ormai non sapevate più che cosa inventarvi? Ma questo non lo so, è chiaro che quando gli anni passano e i migliori risultati, i migliori anni sono passati, tendi sempre comunque a riconoscere l'importanza e la validità del tuo avversario. Mentre sei in gara e mentre lotti per questo agonismo che c'è, esasperato anche in certi momenti, non puoi fermarti a ragionare più di tanto. Sei coinvolto dalla gara, dai problemi, dall'agonismo, però dopo passando gli anni è chiaro che riconosci, cerchi di valutare con tranquillità e riconosci anche il valore degli avversari. E attenzione, non c'eravamo solo noi due, c'erano tanti corridori, uno l'hai ricordato te, ma a livello internazionale c'era una marea di corridori. C'era Inau contro di voi, c'era su fine della carriera, stava finendo la carriera Merckx, c'era Mertens, non lo so, ma veramente era un ciclismo, Turao e chi più ne ha più ne mette, è vero? De Vlemic, Baron Kelly che era molto simpatico e con il quale ogni tanto si accapigliava Moser, quasi quanto con Saroni. Io credo però, credo di poter dire una cosa, che questa rivalità, la rivalità è il sale del ciclismo, è il sale dello sport, è il sale della vita anche, se non ci fosse stata questa rivalità, lo dicevo prima, probabilmente non avremmo oggi questa idea straordinaria che ci è rimasta impressa a tutti noi che li abbiamo visti correre, della grandezza di questi due campioni che hanno regalato, io credo di poter dire, delle emozioni incredibili a tutti gli appassionati che hanno regalato dei successi straordinari al nostro Paese, all'Italia, portando con onore la maglia azzurra. Lo ripeto, probabilmente questa loro rivalità li ha fatti ancora più grandi, io credo che debbano ognuno qualche cosa all'altro e li ringrazio e mi scuso se in qualche caso questa sera sono stato irriverente, l'ho fatto però con la passione e l'affetto che ho nei confronti di entrambi per quello che mi avete regalato.